Una bella notizia tanto attesa per la comunità locale di Cartoceto. Sono arrivate altre risorse per il completamento dei lavori della cinta muraria del paese, crollata durante l'alluvione del novembre del 2012 e del 2013. Dopo un lungo lavoro per trovare il denaro necessario, affermato il sindaco Enrico Rossi, ora possiamo completare l'intervento iniziato anni fa. Era da tanto che cercavamo di intercettare risorse importanti per scrivere la parola fine agli interventi necessari di messa in sicurezza, di consolidamento e di restauro conservativo della cinta muraria dopo già quelle spese che ammontano ad oltre un milione e mezzo di euro. Arriva un ulteriore contributo, grazie a valere sulla legge di bilancio dello Stato, peraltro un milione e mezzo, destinati al tratto di mura lungo via Cavour, al bastione pentagonale e alla ricostruzione di piazza Marconi. Con questi tre interventi scriviamo la parola fine a tutto quello che occorreva per ridonare splendore alla cinta muraria di Cartoceto.